Siamo con il presidente dell'Arezzo Guglielmo Manzo, è il giorno di presentazione della maglia ufficiale ma è il giorno anche della presentazione del nuovo assetto societario. Sì, abbiamo presentato la maglia nuova, la prima maglia, quindi abbiamo messo in pari tutto ciò che era il discorso dell'errore fatto in precedenza e abbiamo presentato ovviamente la nuova compagine sociale che siamo io e Sabatino Selvaggio, proprietari della New Energy Gas e Luce che abbiamo acquisito il 99% delle quote dalla mag servizi, quindi parte di fatto una nuova era dell'Arezzo che era già partita solo che bisognava soltanto mettere a posto i numeri, l'abbiamo fatto, ora metteremo tutto in fila, quello che è la parte vecchia e la parte nuova e faremo del nostro meglio per fare le cose nel mio modo possibile. Dal punto di vista esclusivamente finanziario, qual è la situazione dell'Arezzo? Beh, bisogna dire che noi abbiamo fatto un impianamento importante perché il primo anno che siamo arrivati inevitabilmente c'era un monte in gaggi pazzesco, la squadra di serie B praticamente, quindi dove come tutti sanno non potevamo toccare nulla perché quando c'è il professionismo di mezzo quello è il contratto e quello di rispettare altrimenti la strada è il fallimento, non c'è altro. Abbiamo onorato l'Arezzo Calcio, onorato tutto quello che andava pagato io voglio solo ricordare che nei primi 20 giorni, quasi un mese di nostro arrivo abbiamo ricevuto qualcosa come più di 20 decreti ingiuntivi che abbiamo tutti sistemato quindi oggi bisogna parlare di un Arezzo che ha superato un momento bruttissimo e non parlo solo a livello calcistico della retrocessione ma anche un momento particolare dal punto di vista anche finanziario. Abbiamo risanato e con un bel aumento di capitale si è fatto tanto ed ora viaggeremo sicuramente più sereni anche avendo affidato la guida tecnica che ci permette non di buttare più 3 milioni l'anno ma di spendere il milione 2, il milione 3, il milione 4 con la consapevolezza di avere alle spalle adesso anche dei sponsor, i tifosi che vengono allo stadio quindi degli introiti diversi rispetto ai primi due anni che devo dire onestamente noi come introiti siamo stati diventati a zero tranne alcuni piccoli sponsor che hanno letto botta con noi ma purtroppo lo sapete quando non c'è il pubblico chi viene a fare la pubblicità allo stadio? Nessuno Lei ha parlato anche di strutture, lo stadio, i campi di allenamento, insomma è un Arezzo in evoluzione Assolutamente sì, abbiamo sistemato i campi lebole di fronte che era fondamentale sistemarli e lo stadio è in fase di sistemazione delle filtrazioni, delle situazioni che ci sono e i tecnici stanno già provvedendo le caselle in fase di strutturazione, io presumo da qui a qualche mese sarà tutto in linea per quanto riguarda questi lavori di adeguamento manca soltanto la parte del campo in erba sintetica delle caselle che abbiamo mandato in lega all'approvazione del progetto e pure quello penso nei prossimi mesi sarà operativo Poi c'è anche questo sogno di acquisire una volta per tutte lo stadio di renderlo moderno, europeo, insomma qualcosa che sta cullando da tempo Sì, quello che dicevo prima, noi vorremmo realizzare, prendere in carico lo stadio facendo un progetto finanzia di tutto rispetto per garantire all'Arezzo Calcio una sua continuità nel momento in cui c'è negozi, c'è attività a bar all'interno uno stadio pulsante che deve essere un cuore pulsante della città dove comunque si può venire in qualunque momento a fare una passeggiata non necessariamente a vedere la partita, insomma e questo è l'obiettivo da raggiungere, non è facile per niente perché in Italia non abbiamo questa cultura ce l'hanno Inghilterra ma noi facciamo un po' fatica ma cercheremo di portare a casa anche questo risultato